Lei per la prima volta si è al di Roma come sindaco, che ne pensa di questa ottava edizione del festival di Roma? Penso che è uno degli strumenti che sono necessari per rendere Roma sempre più internazionale ed è quello che faremo. Al termine di questo festival internazionale del cinema di Roma quali sono i tuoi festival in ogni quattro. È stato un festival, una edizione del festival molto interessante e vincente secondo me sotto vari specchi, ha unito finalmente la critica e i giovani sono accorsi in massa per applaudire i film in concorso, in fuori concorso e in tutto l'influenza di pubblica è stata importante e bassissima e quando si combinano questi tre elementi vuol dire che l'edizione è soltanto vincente e merito assoluto di Marco Muller che in assoluto, quello dico e quello nego, è la persona articino ma più appassionata che abbia mai conosciuto. Quando vedi l'amore della persona, per il lavoro che fanno, per quello che portano avanti, l'ideale in cui credono è una cosa più bella. Quindi è stato, possiamo dire che è stato un po' Muller a innalzare questo livello del cinema? È stato Muller, proprio senz'altro, assolutamente. Ecco lui che racchiude tutto questo ideale, lui che proprio si infodigliava perché i giovani non accorressero, ha chiamato le star giuste, con il giusto appeal, è una persona che bisogna riconoscere. Grazie. 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 Grazie.